Chiunque abbia lavorato anche a livello molto professionale con la ripresa di tessuti sa che il muare che state vedendo in questa foto è un problema molto serio. Si tratta di uno dei ritocchi più difficili da fare, o perlomeno è difficile fino a che non si prova ad affrontarlo nello spazio lab, che è l'unico che permette di fare un certo tipo di operazioni e uscirne tranquillamente senza troppi problemi. Quello che vi faccio vedere è un metodo di rimozione del muare che richiede un attimo di improvvisazione perché non è una ricetta fissa, ma il concetto alla fine dovrebbe esservi chiaro. L'idea magari è di non rimuoverlo completamente, ma di trovarci in una situazione in cui sia più facile fare un ritocco che altrimenti qui, come immaginate, prevederebbe una serie di cloni e di operazioni che non sono affatto semplici da fare. Per capire come possiamo affrontare la cosa dobbiamo innanzitutto esaminare i canali e lo facciamo partendo dalla luminosità. Vedete questi anelli? Questo è il muare, quindi al 100% è un problema che riguarda certamente la luminosità. Ma se guardiamo l'immagine originale vedete anche che c'è una variazione cromatica. Alcune di queste bande sono gialle, alcune di queste bande sono violacee. I canali A e B, quindi, contengono una forte informazione legata proprio alla struttura del muare. Vi faccio notare, tra l'altro, quest'area completamente piatta, qui in un angolo, sia in A che in B. Segno evidente dal mio punto di vista che il file che mi è stato fornito era stato ritoccato in parte e la tecnica che è stata usata è stata quella di sovrapporre a una parte che evidentemente era stata ricostruita un certo colore, perché il colore in quest'area è completamente piatto, a differenza di tutte le altre. Andiamo a vedere come possiamo intervenire. Prima cosa, andiamo a duplicare lo sfondo, lo chiamiamo muare, in maniera mnemonica. Andiamo a selezionare solo il canale della luminosità e per una volta magari non visualizziamo il composito ma continuiamo a guardare la luminosità. L'idea è quella di andare a fare una fusione, un blend praticamente, del canale A oppure del canale B, eventualmente invertiti, in modo sovrapposizione, in maniera che nella luminosità si vada a minimizzare questo fenomeno. Lo facciamo intanto su tutta l'immagine e poi andremo a restringere questo intervento all'area specifica disturbata per l'appunto dal muare. Quindi luminosità selezionata, applica immagine e a questo punto si prova. Mi pare che siamo già abbastanza fortunati ma proviamo a vedere. Intanto mettiamo l'opacità al 100% e vediamo cosa fanno i singoli canali. Allora, applicando A in sovrapponi alla luminosità, quello che accade è questo. Passo da qui a qui. Proviamo a invertirlo e vedete che il problema peggiora moltissimo. Benissimo. Proviamo a vedere cosa succede con B. B invertito sembra funzionare. B diretto invece assolutamente no. Peggiora a sua volta le cose. A occhio e croce la scelta è tra B invertito oppure eventualmente andiamo a vedere A diretto. Io credo che B invertito sia la scelta migliore perché porta la texture della strofa da qui a qui. Attenzione che adesso dobbiamo vedere se la opacità è quella giusta. Proviamo, non so, se io vado al 50% c'è una parvenza di effetto. 60, 70, non cambia molto. A 0 ho questo. Proviamo 10, 20, 30, 40. Devo muovermi fino a che non vedo progressivamente sparire l'effetto perché non vorrei che al massimo si cominciasse a vedere nuovamente. Si tratta di fare un po' di prova. Io credo che un 70% di B invertita possa essere una cosa sensata. Diamo ok e andiamo a vedere che cosa è successo. È successa una cosa molto interessante. Guardate. Questa è la versione originale. Questa è la versione che abbiamo ottenuto. C'è ancora una variazione ma come abbiamo visto un attimo fa nel canale della luminosità è essenzialmente una variazione cromatica. A questo punto la cosa migliore che potrei suggerire è di creare un nuovo livello. Lo chiamiamo colore. Lo mettiamo naturalmente in metodo di fusione colore e andando a campionare un colore medio per esempio da queste parti io andrei a dipingere anche in maniera abbastanza grezza su questa parte e in questo modo ho sostanzialmente eliminato completamente tutto il muare. Attenzione! Non ho fatto una pittura particolarmente precisa ma non mi importa. Perché? Perché so benissimo che posso con la fusione condizionale andare a limitare questo effetto all'area che mi interessa perché ad esempio mi basta dire di fare la fusione nel momento in cui il livello sottostante è magenta. Quindi mi basta passare appena appena questo limite e automaticamente ho escluso l'area bianca. Vedete? Prima c'erano delle macchie adesso non ci sono più. Direi che potrei aver finito. L'unica cosa che mi conviene fare a questo punto è fare una selezione. Anche questo momento e su questo livello andare a creare una maschera di livello. Ecco vedete era così poco accurata che mi sono recuperato una parte di muare e quindi è una cosa che andrebbe eventualmente ritoccata ma l'idea è di non andare a intaccare il resto dell'immagine e quindi limitare l'applicazione che abbiamo fatto del canale B invertito la L soltanto all'area delimitata dalla selezione. Naturalmente questa selezione così è un po' cruda. Tra l'altro sto vedendo che sarebbe veramente il caso di allargarla un pochino qui per cui basta dipingere con un po' di bianco sulla maschera e naturalmente una maschera del genere poi va opportunamente sfocata perché non ci siano effetti collaterali ai bordi. Ma questo è il risultato finale per cui sono passato da qui a qui. E in che modo? Due passaggi. Allora una duplicazione dell'immagine. Adesso naturalmente ho limitato questa cosa con la maschera ma questa immagine contiene una certa percentuale di canale B invertito e lì vi ho detto si improvvisa che va a cancellare la struttura della luminosità del muare. Vedete? Questo è quello che accade nel momento in cui vado a sovrapporre B. Questa è la luminosità originale. Fatto questo naturalmente ho ancora la variazione cromatica che si mette a posto in un attimo con un semplice pennello. Il risultato finale è che il nostro tessuto passa da questa forma a questa forma con nessuno sforzo. Potete poi naturalmente andare a fare un colore più appropriato, mettere una variazione, ci potete lavorare finché volete. Ma intanto il problema realmente grave è stato rimosso. Bello lo spazio colab, no?